Ragazze buongiorno, oggi una giornata che per molti potrebbe essere bellissima perché è calda, perché volendo si potrebbe andare al mare, si potrebbe fare una gita. Per me invece queste giornate sono brutte perché nell'aria c'è scirocco e questo scirocco mi provoca sonnolenza, gli occhi pesanti e mi provoca anche allergia, starnuti e cose varie. Quindi per me queste sono giornate brutte perché mi provocano questa allergia, questa sonnolenza, di conseguenza alla sonnolenza una pigrizia che non vi dico. Pigrizia nel senso che non mi va di fare niente, forse perché ho sonno e quindi giornata così. Qui c'è la mia bimba, e niente ragazze, finora è quasi mezzogiorno e vi dico la verità, ho fatto poco e niente. Mi sono solamente spazzolata i divani con la solita spazzola per togliere i peli, ho annaffiato le piante, ho annaffiato tutte le piante. Ho pulito questo mobiluccio che c'era un po' di terra, di polvere, ho messo queste due petuglie e qua comunque ragazzi ho fatto poco e niente. Ah poi mi sono lavata questo vestito a mano in acqua, questo è un vestito di mango. Io prima da mango ci compravo tante cose, poi mango lo hanno tolto a Palermo, l'unico punto vendita, mango lo hanno tolto e hanno messo al suo posto una profumeria Mabu. E niente ragazze, quindi sono molto pigra stamattina, ah poi ieri pomeriggio me le sono andate in palestra e si evince dalla borsa della palestra e dalle scarpe da tennis si messe qua. Perché ieri è arrivato un certo punto, ho finito di fare tutte le pulizie, ho davvero pulito tutta la casa, poi ho pranzato, mi sono coricata e intorno alle 5 ero già bella che soddisfatta, appunto perché mi ero riposato un poco e ho detto senti sai che c'è, ho detto a mio marito mi vado a fare almeno un'ora di allenamento. E così è stato, sono scesa, c'era caldo ma non come oggi, oggi è peggio. E niente ho fatto un'oretta e mezza così di allenamento e poi sono tornata a casa. E niente ragazze, quindi niente ragazze, mi vado a fare il bagno, vorrei mettermi la testa sotto la doccia per svegliarmi un poco, ma purtroppo questo senso di sonnolenza mi appunto mi viene da questa allergia, da quest'aria che c'è fuori. Comunque raga dai mi faccio, quindi pulisco il bagno, pulisco il bagno e poi non so che cosa fare, se andarmene, come dire, forzarmi e andarmene in palestra oppure andarci nel pomeriggio, non lo so ragazze, vediamo come si evolve la giornata. Ma lo chef mi conosce, guardate che cosa mi ha portato, una delizia, buone, i fragoloni, fragole di marsala, che buone. Ma sono una più buona dell'altra, sono mature, vedo che non ce n'è neanche una rovinata, un po' che sono ammaccata. Un breve sguardo a questa frittata qua, a questa poltiglia. Va bene, vediamo dai se con i fragoloni mi posso svegliare un poco. Allora io con queste fragole farei una torta, farei fragole con panna, farei mille, mille cose. Ragazze, volevo fare due chiacchiere per quanto riguarda l'aspirapolvere, perché anche ieri nei commenti mi dicevano, Mariana, ma non ti vedo mai usare l'aspirapolvere. Come mai? Allora, io ho tappeti che hanno bisogno dell'aspirapolvere e ho solamente questo qua, perché poi ho quelli di foggia moderna, che sarebbe quello, quello in camera da letto che lavo direttamente in lavatrice. Prima ne avevo molti di più, devo dire, ne avevo molti di più di questi persiani, solo che poi con l'acquisto di questa casa, insieme a tanti mobili che poi qui non c'entravano, ho venduto anche tanti tappeti, anche perché qua ragazze non saprei dove metterli. E quindi mi sono tenuto solamente questo, e poi me ne sono tenuto un altro molto bello, bianco, molto molto bello, che è quelli, i classici quadrati che si mettono tra i divani. Però essendo chiaro, essendo bianco, con le frange bianche, avrebbe bisogno di un lavaggio specifico fatto proprio da persone appunto che puliscono i tappeti. E quindi è avvolto nello sgabuzzino. Per quanto riguarda utilizzare l'aspirapolvere al posto della scopa, io vi devo dire che con questa non mi trovo, perché questa è pesante, questa è di roventa, però questa è pesante, funziona solamente a luce, quindi ogni volta che devo spazzare, prendere questa cosa, no. Devo dire naturalmente che ci sono delle aspirapolveri buonissime, come le Dyson. Mia figlia ad esempio ha una Dyson, quando ha comprato casa, la casa è col parquet, la prima cosa che ha acquistato da ogni euro dove lei lavora è questa Dyson meravigliosa, è una Dyson ricaricabile, quindi lei ce l'ha appesa al suo, appunto, a quella geggia appunto dove si ricarica, è messa sempre là, appesa, è leggera, molto leggera, ha tanti ricambi, ma soprattutto appunto non ha bisogno dell'elettricità. Quindi lei appena ha una briciola a terra, vuole appunto spazzare e pulire, la prende, vi ripeto, è molto molto leggera, e la passa senza bisogno di la paletta, come facciamo noi con la scopa, non ha bisogno di mettere spine, come ho fatto ora io, sono dovuta andare a cercare un riduttore, quindi diciamo come aspirapolvere, ecco, se avessi una di quella forse la utilizzerei. Ma questa, vi ripeto, la utilizzo solamente per fare questo tappeto, ormai mi è rimasto, diciamo, persiano, e poi non... Naturalmente, magari col tempo mi comprerò anche io una di queste ricaricabili, leggere, soprattutto appunto devono essere leggere, e soprattutto devono essere senza filo, perché il filo, il fatto che è pesante, non mi va, quindi preferisco la scopa. Diciamo che io non... Per alcuni elettrodomestici non sono molto inclina e molto portata, come per esempio non ho mai voluto la lavastoviglie, avevo la lavastoviglie nell'altra cucina e non l'ho mai utilizzata, ragazze, l'ho tenuta quella cucina forse 5-6 anni, e la lavastoviglie non l'ho mai usata. Difatti poi questa che ho comprato in questa casa, intanto l'ho comprata senza lavastoviglie, perché appunto per una questione di misure non ci andava la lavastoviglie, ma in ogni caso io non la cercavo, perché sono di quegli elettrodomestici che io non amo utilizzare, lavastoviglie, aspirapolvere al posto della scopa, no, però non escludo che un giorno una bella Dyson leggera e ricaricabile potrei anche comprarmela. Ragazzi, allora vi faccio vedere quello che ho fatto, ho pulito il tappeto con l'aspirapolvere e poi approfittando, ragazzi guardate che belli, approfittando di questa giornata con questo caldo, intanto vi devo dire che un po' di sonnorenza che avevo stamattina mi è passata, evidentemente un po' l'effetto appunto durante la mattinata se n'è andato, ho approfittato per aggiustare il balcone, aggiustare nel senso, a zizzarlo sistemato, intanto ho preso il tavolo che c'era nello sgabuzzino, l'ho pulito, ho messo i piedi e l'ho impostato, questo è il tavolo che lo scorso anno ci ha permesso di mangiare fuori tutta l'estate, sia pranzo che cena, e quindi già l'ho impostato, e poi qui ho fatto proprio un angolo tutto di piante, come vedete le ho raccolte tutte in quest'angolo, per forza di cose, per fare spazio al tavolo, e nel frattempo appunto per fare proprio un angolo tutto fiorito, vi faccio vedere da lontano, ecco qui, questo è tutto l'angolo fiorito, ragazze considerate che tra poco queste saranno tutte piene di fiori, perché queste sono le hortensie, tra qualche giorno comincerà a spuntare una cosina piccola piccola, qui dentro saranno i fiori, prima saranno verdognoli, poi si cominceranno a colorare, credo che siano qualcuna bianca, qualcuna forse questo colore, adesso non ricordo l'anno scorso come le ho comprate, un'altra petunia l'ho messa là, insomma comunque dovrei comprare ancora tante piantine, per riempire tutti questi vassi che ho, comunque per ora siamo a questo punto e direi che mi sono fatta questo bellissimo angolo fiorito, il mare che si vede, ragazze ma che voglio di più, il tavolo per mangiare fuori ce l'ho, ma che voglio di più, un lucano, allora ragazzi ora devo togliere questi tulipani, perché i poveretti non ne possono più, questi tulipani hanno 15 giorni, quindi tolgo questi, li butto, domani fanno 15 giorni, e faccio una cosa, metto queste rose, accorcio i gambi, e li metto in quella bull, queste rose fanno invece una settimana domani, però come vedete ancora resistono alla grande, ah vi faccio vedere pure che mi sono pulita tutto l'altro balcone, io ve l'ho detto l'altra volta, se prima non ci sono almeno 25 o 30 gradi, io i balconi non li pulisco, e ormai diciamo che ci siamo, si può stare fuori tranquillamente, quindi ho spazzato pure tutto questo balcone, ho sistemato le sedie, ragazze guardate quanto è fatta bella questa pianta, questi sono tutti i fiorellini che diventeranno bianchi, guardate tutte queste foglie verdi, sono tutte foglie nuove, ora i ficus cominceranno a impazzire, vedete già queste sono tutte foglioline, queste qua tutte foglioline nuove, vedete ora questi si riempiranno, non all'inverosimile, ma si riempiranno molto, ok ragazze e quindi niente, diciamo che ho fatto tutto, e appunto mi sono sistemata i balconi, Maia giustamente stanca ed è andata a coricarsi, ah poi un'altra cosa, mi sono pesata ragazze, ai 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 ai, e sono un chilo in più, ma naturalmente era inevitabile, non è stata una sorpresa, non è stato un colpo, perché me l'aspettavo ragazze, e sono stati non un giorno Pasqua, ma sono stati due, tre giorni, di non vi dico abbuffate, ma comunque di mangiare molto, di mangiare le lasagne di seguito, due giorni, la colomba una volta che l'abbiamo aperta, e che facciamo, non ce la mangiamo, e quindi era inevitabile che prendessi un chilo, di fatti oggi voglio fare una bella dieta, intanto bere molta acqua, per fare molta plin plin, e poi a pranzo voglio mangiare yogurt, proprio per fare una specie di giornata di detox, in modo appunto proprio da depurare, quindi yogurt, tutti questi fragoloni, e bere molta acqua, bere qualche tisana, insomma per proprio fare una giornata di detox, lo so che qualcuno ora mi dirà, no Mariana devi riprendere la dieta, quella normale, no, un giorno di, diciamo, questa alimentazione si può fare, molta acqua, tisana, yogurt, tè verde, frutta, si può fare tranquillamente, ora ragazze vi saluto, perché mi aspetta, mi aspettano anzi, tutte queste, tutti questi fragoloni, e da pulire, da togliere il picciolo, tagliare, insomma fare, appunto, condirli con un po', vediamo, di succo d'arancia, e fare questi fragoloni, adesso vado a togliere, il secchio, e la scopa, perché ho finito ora, di spazzare anche fuori, ragazze una volta, una tizia mi disse, io queste cose ve le racconto, perché, per farvi capire, che io proprio, per incavolarmi, deve essere proprio, la prima volta, non le ho risposto, mi disse, con questa scopa, e questa paletta, sempre in mezzo, mi sembri mia nonna, e io, in effetti, non le ho risposto, e poi invece, mi ha detto un'altra cosa, a cui invece, io ho risposto, e mi ha detto, ah ma allora tu, che cosa vuoi farti, solo i complimenti, appena qualcuno ti dice, qualche cosa, e non è d'accordo con te, ti arrabbi, ho detto no, io non voglio solo i complimenti, ci possono essere le critiche, l'importante non è offendere, ho detto, secondo te dirmi, che sembro tua nonna, perché ho sempre la paletta, la scopa in mezzo, è una bella frase, e lei non mi ha risposto, ma comunque ragazze, io poi, queste persone così, che sono così offensive, io le blocco, non è che, diciamo che, un po' paziento, perché dico, vabbè magari una volta ci sta, quando loro perseverano, io invece, direttamente, le blocco, ok ragazze, io vi saluto, noi ci vediamo, come al solito domani, non so che cosa fare, nel pomeriggio, ma qualche cosa farò, ciao, ciao a domani,